Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un annuncio, come vi avevo anticipato nella live di Green Dawn, il secondo episodio, facciamo un evento insieme. Chi vorrà giocare potrà farlo, giocheremo insieme e cercheremo di fare qualcosa di utile, insomma, o anche se l'ho votato al cazzeggio. Non è necessario avere personaggi di livello alto, potete anzi iniziare da capo. Il server non ve lo dirò ora, perché non lo so ancora, però io pensavo a un Balenos 6, però dipende, magari quella sera c'è una war nod su Balenos 6, quindi potrebbe esserci un po' di gente, però di base io vi dico già Balenos 6. Entrate, vi create il vostro personaggio e vi dico dove farvi trovare, che insomma se avete qualche domanda poi la si può fare in live. Si giocherà insieme, chi non giocherà ovviamente potrà guardarla live tranquillamente. Non so ancora come faremo comunicare, sicuramente ci sarà modo di scrivere in gioco, cioè sicuramente lo faremo così, perché secondo me un Discord è un po' troppo complicato al momento da fare, da attuare. Dove dovete andare? In gioco ci troveremo, io direi, Avelia, ci troveremo sul molo di Velia, quindi questa zona qui di preciso, e proveremo ad andare a pescare. Quindi quello che dovete fare all'inizio del gioco, se volete giochichiarvelo un po', non importa, cioè insomma potete farlo, anzi ben venga, parlare con il tizio qui, che è questa specie di, 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 non lo so, furetto. Gli parlate, andate sullo shop e comprate la canna da pesca base. Se poi volete comprarvi la navetta, costa 20.000, vi potete comprare la barchetta insomma. Dopodiché la barchetta, poi in caso vi spiegherò come riscattarla, se non l'avete riscattata. Se no, venite là, dove vi ho detto sul molo, quindi dall'altra parte. Adesso sto facendo il giro, in modo da andare sul molo, perché non notare ci metto di più. Mannaggia me. Si va di là e si pesca. Perché? Perché così impariamo un minigioco della pesca e andiamo magari a guadagnarci due soldi. Quindi ci proviamo un pochino. E niente, io adesso valuterò un attimo che cosa fare, perché magari si potrebbe anche pensare di andare con o la bagnarola che potete comprare, il raft, o la sailboat, questa. Io ho questa, ho questa. Che non si vede perché è lì dietro, è nascosta. No, è questa, scusate. Questa bagnarola qua. Io penso di usare la Indy Donosor. Praticamente io vedrò di, spostare la nave oltre e poi andremo a pescare, sperando che non ci affondino. Insomma, in qualche modo io porterò la nave fuori da tutto questo cumulo di navi e ci troveremo proprio qua davanti. Una volta che poi saremo in gruppo sarete in grado di vedere dove sono e andremo a largo poi a pescare. Insomma, questo è quello che faremo all'inizio della serata. Poi, se dopo un quarto d'ora e tutto ci si rompe le balle di pescare, prima di tutto si va a vendere il pesce. Dopodiché andiamo a fare altro. Andiamo magari a fare un po' di mostri, a fare un po' di gathering, insomma, a raccogliere un po' di risorse, quindi di roba da fare ce ne sarà. Adesso io devo andare a rimettere la nave a posto. Vi ricordo quindi, verso le 21, diciamo un quarto alle 20.45, un quarto alle 9 di martedì, andremo live con questo evento. Ovviamente io vi invito a rispondere al sondaggio che vi lascio sul canale, in modo da farmi capire se verrete a giocare o sarò a giocare da solo. Perché la cosa cambia, nel senso che se non viene nessuno è anche inutile che io venga qui ad aspettare. se invece siete in tanti, se vuol venire, l'evento si fa. Nel caso in cui non venisse nessuno farò la live semplicemente dove andrò a fare un po' di mostri e fare un po' di cose mie. Quindi adesso rimetto via la Indy Donuts, devo veramente trovare il modo di portarla fuori dal porto senza problemi. Appuntamento martedì, quindi martedì precisamente il 13, 13 aprile, ore 20.45, ci troviamo direttamente in live, in gioco venite su Balenos 6, a Velia, sul Molo, ci troviamo lì, o magari sì, il Molo qui, insomma, poi ci invitiamo e io, il mio nome è Indy Hanna, insomma. Queste sono le informazioni che vi lascio per martedì sera, quindi domani sera, rispetto a quando vedrete questo video. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!